Buongiorno a tutti, sono Antonio Conto, il fondatore di ChemSafe SRL. ChemSafe SRL è una società di affari regolatori ma fortemente basata sulle valutazioni tossicologiche, delle valutazioni di rischio e del pericolo delle sostanze chimiche in senso lato, inclusi i farmaci e le sostanze utilizzate nei food, quindi nei cibi. La nostra sede è vicino a Ivrea, a Collaretto Giacosa. La società si è sviluppata moltissimo, fondata nel 2001 da me, quindi Single Man Company. Adesso siamo 25 persone, quindi siamo sviluppati notevolmente anche perché siamo entrati nel settore medicale, quindi farmaci, medical device e nel prossimo anno fonderemo anche la business unit per i food e feed, quindi tutto il campo alimentare. Siamo dei regolatori nel senso che valutiamo la sicurezza delle sostanze chimiche e delle miscele e, come dicevo, anche dei farmaci e dei dispositivi medici. Il mercato di riferimento per ChemSafe è sicuramente l'Italia, continua a essere l'Italia, nella quale siamo leader per alcuni settori specifici, tipo la preparazione dei dossier per il regolamento RIC, quindi sostanze chimiche, e successivamente, subito dopo, anche per i biocidi. Abbiamo però una parte di mercato anche europeo, circa il 20-30%, dipende dagli anni, e proprio il prossimo anno cominceremo attività di sviluppo dei nostri servizi nel Sud America. Abbiamo preso un agente, quindi cerchiamo di andare lì, perché in quei paesi lì si sta sviluppando tutto il sistema regolatorio sulle sostanze chimiche, quindi questo che è il nostro core business a livello italiano e europeo, quindi lo stiamo cercando di svilupparlo anche in quel paese lì. L'intervento di oggi che ho fatto, un'ora fa circa, riguarda però invece l'impatto ambientale delle sostanze attive farmaceutiche. L'impatto ambientale delle sostanze attive farmaceutiche è un tema che sta venendo fuori in maniera notevole, perché ci stiamo rendendo conto che ci sono molti farmaci rilasciati nell'ambiente che determinano effetti avversi delle specie ambientali, quindi nei pesci che vivono nelle acque superficiali, in organismi che vivono nel suolo, eccetera, eccetera. Questo è un tema che l'EMA, l'Agenzia dei Medicinali Europei, aveva già affrontato intorno alla metà degli anni 2000-2006 con una linea guida specifica, questa linea guida specifica ci dà i criteri e ci insegna come fare l'ERA, cioè l'environmenta risk assessment di questi attivi farmaceutici. Noi abbiamo fatto circa 25 progetti di questa natura e lì si tratta di studiare proprio la valutazione del rischio ambientale di queste sostanze, che è un approccio simile a quello che si usa per il chimico, quindi per la sostanza chimica, ma ha una valenza particolare perché le sostanze farmaceutiche vengono rilasciate da noi, dal nostro organismo dopo l'uso, direttamente nell'ambiente, quindi la quantità delle sostanze attive può essere rilevante in alcuni compartimenti ambientali. In questo intervento ho spiegato velocemente la prima linea guida, quindi l'impostazione generale della valutazione del rischio, e poi spiegando la possibile evoluzione della linea guida perché stiamo attendendo proprio un aggiornamento della stessa, probabilmente entro il 2020. Gli interferenti endocrini sono sostanze che hanno una particolare struttura chimica che possono generare degli effetti nelle specie acquatiche, mediati da un'interferenza di tipo endocrino, quindi dal nostro sistema ormonale. Quindi è uno studio scientifico di particolare difficoltà perché bisogna studiare non tanto il profilo tossicologico come noi usiamo a fare per altre sostanze chimiche, ma il meccanismo d'azione della sostanza. Studiare un meccanismo d'azione della sostanza è una cosa non facile perché bisogna conoscere la chimicità, quindi la struttura chimica, bisogna conoscere il tropismo, cioè dove la sostanza va nell'organismo, bisogna poi avere degli studi particolari per definire gli step di questo meccanismo d'azione che va da un aspetto molecolare, quindi di interazione con il recettore della cellula, a un aspetto e un effetto avverso che può riverbrarsi anche a livello individuale o a livello della popolazione. Quindi una diminuzione della fertilità nei pesci determina poi una diminuzione della quantità di quella specie nell'ambiente. Quindi tutto questo tema qua è un tema molto affascinante dal punto di vista scientifico, molto pesante dal punto di vista regolatorio perché se noi valutiamo tantissime sostanze poi il rischio che intravede ovviamente l'industria farmaceutica è che molti di questi attivi siano considerati interferenti endocrini e quindi in qualche maniera poi l'autorità europea decida di limitarne l'uso, no? E quindi questo è un tema, come dicevo, tanto per concludere, di grande appealing scientifico ma di grande preoccupazione regolatoria. Grazie. 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 Grazie.